Si sono sottoposti volontariamente ad un test antidroga per dimostrare alla propria città di essere politici puliti. Il sindaco di Biceglie, Francesco Spina, insieme ad alcuni assessori e consiglieri comunali della sua maggioranza, hanno lasciato una ciocca dei propri capelli nell'Istituto di Medicina Legale del Policlinico di Bari. Ho voluto fugare ogni perplessità sulla classe dirigente della città di Biceglie, soprattutto su una classe politica assolutamente onesta, seria e lavoratrice. Ho voluto oggi in primo luogo dare un messaggio forte di credibilità e autorevolezza morale, ritengo, di chi esercita la massima attività politico-istituzionale della città e che deve garantire tutti i cittadini in termini non soltanto di efficienza e di onestà, ma anche di equilibrio e buonsenso. Un'occasione per mettere a tacere quei politici d'opposizione che avevano addirittura presentato un'interrogazione parlamentare sulla vicenda, alimentando non poche polemiche, ma anche per firmare un protocollo d'intesa con l'Istituto di Medicina Legale. Abbiamo prelevato stamattina i capelli e su questi faremo l'estrazione e l'analisi per ricerca delle sostanze stufacente psicotrope, in particolare per la cocaina e il principio attivo della Mauriana dell'Arcice. Se c'è stata una qualche assunzione nei mesi precedenti ad oggi, verrà fuori. La prima volta che in Italia le forze politiche, ma anche le forze di gianchi industriali, si sottopongono volontariamente a un controllo del genere. Anche il Parlamento di cui si è parlato in realtà poi non l'ha fatto più.